Tragedia sfiorata a San Leone, in provincia di Agrigento, dove Orietta Berti ha di recente tenuto un concerto. In questi mesi la cantante è in tour in giro per l'Italia in attesa di debuttare come opinionista alla settima edizione del Grande Fratello VIP, accanto ad Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Un drone è caduto sulla folla che stava assistendo allo spettacolo musicale di Ferragosto di Orietta Berti in piazzale Giglia. Un fotografo stava utilizzando l'apparecchio per effettuare le foto aeree quando all'improvviso lo strumento ha precipitato sui presenti. A farne le spese una donna che si trovava su una panchina in una posizione più defilata. La spettatrice è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per accertamenti, ma come riporta Agrigento notizie le sue condizioni non dovrebbero essere serie. Non è chiaro il motivo per cui il fotografo abbia perso il controllo del drone. Sulla questione non ha ancora proferito parola Orietta Berti. Non è il primo inconveniente dell'estate agrigentina. Solo il giorno prima, infatti, l'organizzazione è stata costretta ad annullare il concerto dei subsoni che alla Valle dei Templi a causa di un cortocircuito che ha minato la sicurezza dell'evento. Real Video vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine. Iscriviti e attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video.